direi di iniziare questa nuova sessione tecnica che come vedete ho riportato motion più che solido orse perché perché proprio motion qui che ci dà la possibilità di modellare e simulare una camma globoidale quindi è fondamentale l'utilizzo di motion nell'ottenere queste geometrie allora quali sono gli argomenti che affronteremo in questa sessione tecnica anzitutto le tipologie di camme che possiamo modellare in solidworks o meglio le tipologie di camme più comuni e il livello di complessità nella modellazione di queste camme all'interno di solidworks l'approccio di modellazione ma oserei dire l'approccio sbagliato cioè l'approccio con cui tendenzialmente il progettista va a modellare una camma globoidale e poi si rende conto che di fatto non funziona perché è sbagliato quell'approccio e quindi lo vediamo e successivamente vi mostro l'approccio corretto sul caso studio che tratteremo noi e quindi poi il workflow passo passo che ci consente di non solo realizzare la geometria ma andarla anche a verificare con motion a simulare il funzionamento di questa camma globoidale con l'intermittore per andare a leggere poi la legge di moto che viene trasferita all'intermittore perché questo perché ricordiamoci sempre che non siamo artisti non dobbiamo fare un esercizio di design dobbiamo di fatto poi verificare che quello che abbiamo progettato rispette requisiti raggiunge per noi l'obiettivo di progetto andiamo a verificare le performance su quello che progettiamo e non a caso infatti l'ultimo punto andiamo anche a verificare sia le interferenze statiche che dinamiche tra la camma e l'intermittore perché non vogliamo poi ritrovarci sorprese dopo aver fabbricato il componente aver realizzato la camma e tra l'altro devo necessariamente introdurvi anche le interferenze dinamiche perché c'è un aspetto di cui dovete essere a conoscenza la camma e tra la camma e tra l'altro